Allora arrivano anche delle mail abbastanza commoventi che dicono vorrei che la mia mamma fosse ancora qui per potergli fare gli auguri ma purtroppo da un paio d'anni non è più qui quindi insomma a tutti quelli in ascolto che in qualche modo hanno già vissuto questa parte della vita non semplicissima e si fa anche fatica a trovare le parole giuste. A loro dedichiamo le parole di Nanni Moretti di un film dove lui praticamente va e si siede a fianco alla madre appena morta e fa tutto un discorso insomma mi emoziona sempre quando lo ascolto e lo dedico a tutti voi. Ti ricordi la prima volta che in un bar abbiamo preso la cioccolata calda con la panna eh? E quel negozio al corso che regalava le pallette di gomma ai bambini che compravano le scarpe? Ce l'ho ancora quella palletta hai visto? Ero felice quando uscivo con te mi sentivo al sicuro da piccolo perché sapevo che c'eri tu è bello essere bambini non avere responsabilità e nessuno che ti chiede niente. Mi ricordo un giorno dopo aver giocato tutto il pomeriggio a pallone con gli amici ci siamo stesi su un prato era stata una giornata lunga bella piena di luce uno di quei giorni di primavera che sembra non finiscano mai il sole se n'era appena andato eravamo stanchi sudati guardavamo il cielo che diventava sempre più scuro sentivamo quest'erba fresca e nessuno parlava ecco quel giorno io sono stato felice la sera poi a casa ti avrei raccontato tutto ti raccontavo sempre tutto sei arrivata fino a qui non eri curiosa di sapere come andava a finire ma tu l'avrai capito quanto ti volevo bene perché l'hai fatto ora chi ci pensa a me wow 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 wow